Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro quel video. Il caso di cui vi parlo oggi è uno dei più inquietanti esempi di come la manipolazione e la freddezza possano nascondersi all'interno delle dinamiche familiari. In una piccola comunità americana, una famiglia è al centro di una tragica serie di eventi. Una rete di segreti che si rivela solo quando è troppo tardi. Una storia che esplora i limiti della fiducia nell'ambiente domestico, il potere della persuasione e il pericolo celato dietro le apparenze quotidiane. Ci troviamo a Springfield, nel Missouri. Qui vive la famiglia Stouty, composta da sei persone, Mark, Diane e i loro quattro figli, il primogenito Sean e le tre figlie femmine, Sarah, Rachel e Brianna. Mark Stouty, il padre di famiglia, è nato a St. Louis, nel Missouri, nel 1951. Si era laureato al St. John's College a Winfield, in Kansas. Mentre frequentava l'università durante un festival bluegrass, un noto evento musicale, aveva incontrato la giovane Diane. Mark nutriva un grande amore per la musica, scriveva canzoni e aveva talento. Anche Diane, che stava frequentando una scuola per infermieri, adorava la musica e questa passione aveva fatto in modo che i due legassero molto tra loro. Mark era un uomo gentile, estroverso e spensierato, di 11 anni più grandi di Diane, mentre lei era una ragazza più riservata e tranquilla. Il padre di Mark era un membro dell'esercito, mentre Diane proveniva da una famiglia religiosa conservatrice. In ogni caso, la relazione tra i due era progredita molto rapidamente. Infatti, Diane era rimasta presto incinta. Gli amici e i parenti di Mark l'avevano incontrata quando lei era già in dolce attesa e credevano fosse questo il motivo per cui la coppia aveva subito deciso di convolare a nozze. Cioè, nonostante, entrambi erano molto felici di compiere questo passo. Mark non vedeva l'ora di iniziare la sua vita con Diane e anche Diane era radiosa. Poco dopo il matrimonio era venuto alla luce il primo figlio, Sean. Diane a questo punto aveva completato gli studi, lavorava come infermiera nel reparto di cardiologia, mentre Mark non aveva un impiego, si occupava della casa e di Sean. Dato che le entrate provenivano soltanto dal lavoro di Diane, lei cambiava spesso struttura alla ricerca di uno stipendio più alto. Dopo alcuni trasferimenti, alla fine i coniugi avevano deciso di stabilirsi a Springfield, nel Missouri, la città natale di Diane. Vivevano in un grazioso soborgo e, con il trascorrere degli anni, Diane e Mark avevano messo al mondo anche le tre figlie Sara, Rachel e Brianna. La famiglia Stouti ricordava una di quelle che appaiono nelle pubblicità della Mulino Bianco. Grande armonia e sintonia, una famiglia perfetta, ma sappiamo che in verità non esistono le famiglie perfette. E infatti anche gli Stouti stavano attraversando qualche difficoltà. Fin dalla nascita il primo genito Sean aveva avuto dei problemi di salute, soffriva di convulsioni e presto gli avevano diagnosticato l'autismo. Poi Sara, la prima figlia femmina, e Brianna, quella più piccola, manifestavano una difficoltà di apprendimento. Ma c'era un altro problema che attanagliava la famiglia, ovvero soddisfare le necessità finanziarie. Come detto, l'unica che sosteneva economicamente il nucleo era Diane. Tuttavia i coniugi avevano creato una famiglia numerosa e la casa in cui vivevano iniziava a essere un po' troppo piccola. Diane, dopo diversi anni, aveva deciso di cambiare mestiere, optando per il settore assicurativo. Credeva che, quando i suoi ragazzi avrebbero raggiunto l'età per lavorare, lei si sarebbe liberata di tutte quelle responsabilità finanziarie. Inoltre sperava di avere più tempo libero da dedicare alla sua passione, la musica. Diane era un organista, ma anche Rachel, la figlia di Melzo, adorava cantare in chiesa. La musica contemporanea a tema religioso era amata da tutta la famiglia. Mark intanto continuava a non avere un lavoro stabile. Ogni tanto accettava qualche impiego saltuario come barista, ma non smetteva di sognare di realizzarsi nel campo della musica. Come detto, era un bravo cantautore, consapevole delle sue capacità. Aveva formato una band blues chiamata Messing With Destiny, in cui cantava, suonava la chitarra e l'armonica. L'8 aprile 2012, il giorno dopo il 61esimo compleanno di Mark, la polizia risponde a una chiamata e accorre a causa degli stauti al 244 di West Page Street. Dalla segnalazione ricevuta risulta che Mark è deceduto. A quanto pare l'uomo si era ammalato, aveva contratto una grave influenza, degenerata fino a condurla alla morte. Prima di morire si era esercitato un po' con la sua band, ma gli altri componenti avevano notato che Mark appariva confuso. Mentre registravano una canzone, sembrava che Mark non capisse neanche cosa stava facendo. Il suo volto, per di più, aveva un colorito giallastro. La cinquantenne Diane spiega i poliziotti che Mark era malato. Aveva iniziato a indebolirsi, a mangiare e dormire meno del solito. Ma chi poteva immaginare un epilogo così tragico? Diane dice che si prendeva cura del marito. Eppure, durante la settimana appena trascorsa, lui era peggiorato. Non rispondeva più alle domande, non aveva la forza di parlare e questo la preoccupava moltissimo. Mark aveva avuto anche una crisi convulsiva, malore di cui non aveva mai sofferto prima. Quindi Diane, stando a quanto riferisce, si era battuta per portarlo all'ospedale, ma Mark aveva rifiutato. Voleva restare a casa. Purtroppo, 45 minuti dopo questo attacco, Diane era andata a ricontrollare il marito e si era resa conto che lui non respirava più. La perdita di Mark è un evento davvero drammatico per la famiglia. Lui aveva appena compiuto 61 anni, era un uomo giovanile e non aveva una malattia cronica. Tutto è successo così all'improvviso. La figlia più piccola, Brianna, è devastata dalla perdita del padre. Erano molto legati e lo stesso vale per Sean. Lui aveva raccontato i sintomi della malattia di suo padre sul proprio profilo Facebook. La morte di Mark viene dunque attribuita a cause naturali, lo cremano e le sue ceneri vengono sparse nel lago Springfield. Il funerale viene celebrato nella chiesa in cui Diane suona l'organo e la donna chiede ai membri della band del defunto marito di suonare durante la cerimonia. I compagni suonano una delle ultime canzoni che Mark aveva scritto, intitolata Darkest Tower. Come si può immaginare, perdere un padre o un marito è straziante. Tuttavia i problemi per la famiglia Stouty non sono ancora finiti. Circa cinque mesi dopo, il 2 settembre 2012, la polizia torna a casa degli Stouty dopo un'altra chiamata. L'abitazione però è cambiata, ora la famiglia vive al 644 di West Swan Street, in quanto dopo la morte di Mark, Diane ha usato i soldi dell'assicurazione sulla vita del marito per comprare una casa più grande e bella, dove vive con i figli. Mentre la polizia guidava per raggiungere la nuova dimora, Diane al telefono spiegava di aver trovato il figlio Sean, di 26 anni, morto nella sua stanza. La malattia che avrebbe colpito Sean è molto simile a quella di suo padre, aveva contratto una brutta influenza che invece di migliorare con le cure, peggiorava. Nell'ultima settimana il ragazzo aveva riportato sintomi come diarrea, forti dolori muscolari e mal di testa. Diane riferisce alla polizia di aver portato Sean dal dottore perché aveva problemi a mantenerlo idratato, ma il medico non aveva riscontrato nulla di grave. Eppure lei nei giorni successivi aveva notato che il figlio stava peggio, ma non l'aveva riportato in ospedale, sicura che avrebbero minimizzato il problema. Inoltre, come già vi ho detto, Sean era autistico, non amava uscire e non voleva tornare in ospedale. Sua madre lo stava accudendo a casa, si preoccupava di controllarlo continuamente, giorno e notte. Poco prima della morte sembrava fosse stabile, dormiva. Così mattinata Diane e le figlie erano andate in chiesa. Rientrando a casa direttamente nel pomeriggio, però Diane si era trovata davanti a una scena orribile. Sean era rannicchietto sul pavimento con una coperta sul bacino. Aveva del sangue intorno alla bocca e non respirava. Il suo polso non rilevava alcun battito. Sean aveva effettivi problemi di salute, aveva subito diversi ictus e soffriva di convulsioni. Le ultime le aveva avute solo due giorni prima della sua morte. L'autopsia rileva nel ragazzo diversi danni cerebrali, che vengono considerati come la causa del decesso. Online purtroppo non sono disponibili tante informazioni su Sean, ma emerge che era un giovane molto amichevole e che lavorava presso il The Springfield Workshop, un'organizzazione che supporta bambini e ragazzi con disabilità. Come suo padre, anche Sean viene cremato. Le persone vicine alla famiglia sono così addolorate. Immaginano quanto debba essere difficile per Diane e le figlie affrontare la tragica realtà. Ma purtroppo la sfortuna sembra accanirsi senza alcuna pietà contro gli stauti. Nei primi giorni di giugno del 2013, la figlia femmina maggiore, Sarah, finisce in ospedale per lo stesso disturbo che ha ucciso suo padre e suo fratello. Quanto meno lei viene ricoverata prontamente, ma le sue condizioni sono davvero critiche. Tutti i suoi organi stanno cedendo e i dottori non si spiegano cosa stia succedendo. Due giorni dopo, a seguito di una telefonata anonima, la polizia si presenta in ospedale per indagare. Qualcosa non quadra secondo l'autore della segnalazione e gli ufficiali vogliono parlare con il medico di Sarah. Il dottore ammette che stanno eseguendo diversi test perché non riescono a individuare l'origine delle terribili condizioni della 24enne. La situazione è grave, la ragazza sta morendo e il medico infine espone la sua ipotesi. Forse Sarah è stata avvelenata. Gli ufficiali temono che il dottore sia sulla strada giusta, la sua ipotesi è coerente con le informazioni da loro già ottenute che fanno puntare il dito contro Diane. La chiamata anonima ricevuta dalla polizia proviene dalla chiesa luterana del Redentore, dove Diane fa l'organista da decenni. A telefonare è stato il pastore che ha suggerito di indagare proprio su Diane Stouty. A lui sembra sospetto che il marito e il figlio della donna siano morti misteriosamente a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro e che ora anche una delle figlie sia in fin di vita. Il pastore ha aggiunto che Diane non era apparsa sconvolta dopo la morte di Mark e nemmeno dopo quella di Sean, come aveva notato anche il direttore musicale della parrocchia. Il pastore e Mark inoltre erano molto legati, avevano una certa confidenza, eppure Mark non gli aveva mai parlato di problemi di salute. Secondo il prete, la malattia e la morte di Sean avevano reso ancora più oscura Laura intorno a Diane, per poi concludere con le gravi condizioni di Sarah. Il pastore ha ritenuto di dover allertare la polizia, per di più. Non è stata Diane a dirgli che Sarah sta male, ma glielo ha comunicato un'altra fedele della chiesa. Anche questo è parso strano al sacerdote. Come mai Diane, dopo aver perso marito e figlio, e con una figlia in punto di morte, non si è rivolta a lui per pregare e ricevere un supporto emotivo? Diane è molto religiosa. Una donna come lei avrebbe agito così in un momento di sconforto. Insomma, il pastore non è riuscito a ignorare queste dinamiche, anche se spera vivamente di sbagliarsi. Ma ora la polizia potrà scoprire se è davvero accaduto qualcosa di sinistro. Gli ufficiali sopraggiunti in ospedale, dialogando con il medico di Sarah, hanno appreso che le possibilità di sopravvivenza della ragazza sono pari a zero. Non c'è dubbio che lei morirà, anche se non si prevede quando esattamente. La polizia scopre anche che Diane non va spesso a trovare Sarah e che quando lo fa si trattiene per davvero poco tempo. Diane è stranamente di buon umore, si mostra ottimista, si comporta come se non stesse succedendo nulla di tragico, scherza con le infermiere, racconta pure di un viaggio in Florida che ha pianificato. Dice che la salute di Sarah non le impedirà di andare avanti con la sua vita. Le infermiere considerano insensibile questo comportamento, visto che la vita della ragazza è gravemente a rischio. Quella che appare in ospedale sembra un'altra versione di Diane, perché chi la conosce descrive una madre sconvolta, afflitta dalle atroci perdite subite. Spesso su Facebook Diane implora agli amici di esprimere pensieri positivi e di pregare per Sarah, rivelando che sua figlia è in terapia intensiva, in condizioni critiche. Tutti commentano i post, comunicandole il grande dispiacere che provano per lei. Gli ufficiali però, a questo punto, vanno a casa stauti e chiedono a Diane se può presentarsi alla stazione di polizia per un colloquio informativo su ciò che sta accadendo a Sarah. E lei accetta. Così il 20 giugno la donna si presenta alla stazione di polizia. Tuttavia, non è possibile provare che Diane abbia causato la morte di Mark e Sean, visto che sono stati entrambi cremati. Quanto a Sarah, i medici nel suo organismo non hanno trovato nulla che possano testare. Il detective di conseguenza interroga Diane con cautela. Non sa se lei sia davvero responsabile della morte dei suoi cari. Potrebbe essere semplicemente una madre sconvolta dalla perdita del marito, del figlio e della preannunciata morte della figlia. C'è il rischio di infierire ingiustamente, ma bisogna appurare cosa sta succedendo. Quindi il detective chiede a Diane di ripercorrere le vicissitudini di Sarah. Diane spiega che la figlia aveva iniziato a stare male circa una settimana prima che finisse in ospedale, ma non sembrava nulla di grave. Aveva un po' di mal di testa, qualche dolore muscolare, mal di stomaco e aveva vomitato, ma nulla di più. Il giorno in cui l'avevano ricoverata era iniziato tutto nella norma. Sarah non stava malissimo, ma aveva preferito rimanere a casa per dormire di più. Diane e le due figlie minori, Rachel e Brianna, erano andate in chiesa, poi erano rincasate e dopo un po' si erano rese conto che Sarah stava dormendo da davvero parecchio tempo. Di conseguenza Diane era entrata in camera sua e l'aveva chiamata, ma Sarah non rispondeva. Sembrava incosciente. Così, quella domenica pomeriggio avevano deciso di portarla in ospedale. I medici, dopo averla visitata, avevano confermato a Diane che la figlia stava indubbiamente male, ma non avevano idea di quale fosse la causa. La donna vedeva che sua figlia aveva un aspetto orribile, sembrava in effetti molto vicino alla morte. Era convinta che Sarah avrebbe perso la vita da un momento all'altro. Ok. And then you woke up Sunday morning? Morning. She was asleep. Ok. Then what happened? Me and the other girls went to church and we left her sleeping. Ok. And then I came home and she was still sleeping and then maybe a couple hours later I went to check on her and we just couldn't get her to respond or answer or anything. Ok. So you brought her to the ER? Yeah. And that was Sunday? That was Sunday night? I want to say afternoon. Afternoon. It was still daylight. Ok. And what time about was it that you got home from church? I want to say around 1230. Do you remember about what time it was that you took her to the ER? Maybe three-ish. Is she still unresponsive at that point? Pretty much, yeah. Ok. I mean we literally had to, Rachel and I had to carry her. Oh wow. We carried her to the car. And it's like, ok, this is not good. You know, it's like something's wrong. And what did they say at the hospital? Basically she was as sick as sick could get. But no idea what it was? We had no clue. Rientrata a casa, Diane si era domandata. E se Sarah avesse tentato di togliersi la vita in qualche modo? Così era andata a controllare i suoi farmaci. Sara li prendeva stabilmente perché era affetta da un disturbo bipolare. Tuttavia nel flacone non mancava una consistente quantità di pillole. Quindi Diane aveva escluso l'eventualità che sua figlia avesse tentato di suicidarsi con un overdose di medicine. Ma sottolinea all'investigatore che Sara aveva problemi di autolesionismo. Aggiunge che in casa erano presenti degli addetti alle polizie, ma dubita chi abbia rubato i loro detergenti per ingerirli. Anche se, ripete in continuazione, non lo so. I don't know. Questa donna fa un po' la finta tonta. Il detective le continua a chiedere se crede che sua figlia abbia ingerito qualche detergente per la polizia. La donna spiega che solitamente gli addetti alle polizie usano un detergente di nome Lysol. Still don't really have a clue. I mean, with her medical background, she's bipolar. Okay. My first thing is, you know, did she try to overdose or something? And then when I got home from the ER, I checked her medicine and she had plenty of pills left. So I don't think she OD'd her medicine, but I have no clue. Obviously, because the pills were there, she wouldn't have overdosed on pills. Even what else she might have done? She's talked about in the past about cutting her wrist. But obviously she didn't cut her wrist. Okay. Do you have any idea what it would be that she'd find to take? Oh, gosh. I don't know. I mean, I don't... As far as pills, I don't have much. Other, you know, Tylenol, Motrin, that... Okay. You don't think she's the type of person that would try to harm herself or...? I really don't know. I'm... I don't know. Okay. Part of me says yeah, part of me says no. I know she had been not sleeping as good as she's been in the past, but other than that, I haven't really noticed much change. So you don't think it was pills? You thought maybe she could have gotten into some cleaners or something? What kind of cleaners do you think it could have been that she would have...? Oh, gosh. What do I have? I can't see her taking soap. Yuck. The general, you know, everyday cleaner. I have some of that. What would that be? What's the name of it? Lysol? Okay. I know I have that, but I guess if you took enough, something would do something. But she's... As far as you know, she hasn't mentioned anything at all to anybody that wanted to harm herself. So that would kind of surprise you then. Yeah. And as far as you know, they still don't know anything at the hospital? No. And from what I understand, you're in the medical field? Mm-hmm. I'm a nurse. You're a nurse. Okay. But I'm a cardiology nurse. I know hearts, but... Okay. And from what I understand too, I think you're pretty well respected in your profession. Is there anything from your knowledge, I know you say we deal with the heart and stuff, but from your knowledge, is there anything that you could think of that it could have been? Because obviously, from what we understand, you're pretty intelligent. I try. Yeah. But I really can't think of anything. I mean, I don't know. Psych's not my thing. Yeah. Yeah, I understand the psych part, but in terms of medical condition-wise, is there anything medical condition-wise that you... That would cause all this? It's... The only thing I'm thinking in my mind is unless it's an autoimmune something or the other, but I've never heard of that causing... Basically, she had a total body collapse. Okay. I mean, all her organs were trying to fail and it's like... I don't know if anything... That would do all of that. Yeah. Maybe one thing, but not all of it. It just doesn't make sense. Forse, se ingeriti i vari detergenti che maneggiano, possono portare alla morte? Diane questo dice di non saperlo, ma il detective è stranito. Le ricorda che lei ha una formazione da infermiera, dunque dovrebbe conoscere questi dettagli. Diane però sottolinea che lei era un'infermiera cardiologa. Si occupava del cuore. In ogni caso è evidente che Diane sta tentando di fornire all'investigatore delle teorie alternative, come quella del suicidio. Ma il suo atteggiamento da finta tonta fa storcere il naso al detective. Soprattutto questo sminuire la sua conoscenza da infermiera. Essere specializzata in cardiologia non significa ignorare completamente qualsiasi altro campo medico. C'è però un'altra cosa che Diane ancora non sa. Cioè che la polizia sta comunque indagando sulle morte di Mark e Sean. Pur non emergendo delle circostanze sospette, da entrambi erano stati recuperati dei tessuti grazie alle autopsie. E la polizia vuole testarli, analizzare i loro sistemi. Solo adesso l'investigatore informa Diane dell'apertura dell'indagine sui decessi di Mark e Sean. visto che vari membri della sua famiglia sono morti o potrebbero morire accusando gli stessi sintomi. Chiede quindi alla donna. Sarebbe sorpresa di scoprire che suo marito e suo figlio sono morti a causa di qualcosa che avevano ingerito? L'ospedale, sembra che stanno facendo molti testi, e stanno anche mandando alcuni testi all'interno. Ci sono parlato del Mayo Clinic. Oh wow. Possibili altri paesi. Credi che ci sia qualcosa di sospicioso che trovano in tutti questi testi che stanno facendo? Non ho capito. Se avessi tornato che c'era qualcosa di così, come avessi spiegato? Non lo so. Dianne si mostra confusa, poi si stringe nelle braccia per procurarsi una sorta di autoconforto. Dianne rivela al detective che sua figlia Sara è una ragazza difficile. Non riusciva a trovare lavoro. In realtà, non lo cercava neanche. Ma i suoi studi universitari erano costati molto. Avevano accumulato dei debiti e Sara non elaborava alcun piano per provare a saldarli. Sara è un figlio difficile da sfruttare. Non ho capito. E ho stato un po' di pressione su lei. Sai, hai bisogno di andare fuori e avere un lavoro. I vostri bambini di scuola sono venuti. Non voglio pagare per loro. Poi, dopo tutto, ti fai fai di fare tutto per i tuoi figli. Dianne ammette di essere stanca di fare tutto per i suoi figli. Sara si era laureata in lingue, nello specifico aveva studiato francese. Aveva frequentato la Missouri State University con la prospettiva di diventare una traduttrice di francese. Ma nella zona in cui vivono non c'è un'effettiva richiesta per questo incarico. Dianne palesa anche il disgusto che provava per suo marito. Mark era sempre fuori a bere e a fumare la sostanza leggera. Il loro non era stato un matrimonio felice. Le sue amiche le chiedevano perché non lo lasciasse e lei rispondeva che temeva che Mark si togliesse la vita perché anche lui era affetto da un disturbo bipolare. Mark had a lot of weird friends, well I don't know if I'd call them friends, acquaintances. He would, you know they were into drugs and all that but that wouldn't surprise me but as far as my kids I can't imagine. You can't imagine. Anybody trying to harm them. You can't imagine. He, he would binge drink and... What was your guys' marriage like? Um, how can I say this? We were still married but it was not what you call a good marriage. Mm-hmm. Had there been any infidelities on either side? He had. He had. He had. Mm-hmm. Why not? Oh, he was bipolar too. Insomma, Diane è propensa a mettere in primo piano i problemi di salute mentale dei suoi familiari. Il detective allora cambia tattica, dicendole che lei è una brava persona e che anche le brave persone commettono degli errori. I think you're aware of why we're just, why we're here. Maybe. I don't know. I think you know why we're here talking. And now is your chance to kind of help fill in, you know, because there still are some questions about why things may have happened and that nature and this is your opportunity because, you know, people are going to be looking for some answers. And they're going to want to know why and we're going to want to be able to go back to them and say this is it, you know, she's a good person, you know, but, but give them some kind of explanation as to why, because I know that there's a reason, you know, maybe why some of this stuff did happen. Diane gli sussurra, beh, non ho fatto del male ai miei figli se è quello che stai cercando di dire. All I know is if she, I don't know, I know I didn't do anything. And if you did? I'm just telling you I didn't do anything. Diane afferma che lei li adora anche per le passioni a cui si dedicano. Sean amava leggere libri sulla meccanica e sull'architettura svedese. Sarah sa parlare il francese. Brianna ama i gatti, i dinosauri ed è molto brava col computer. Rachel poi è così intelligente. Da poco ha iniziato a frequentare la Missouri State University di Springfield e ha una spiccata vena artistica, è affascinata dal Giappone e suona diversi strumenti musicali. Diane ribadisce al detective. Non ho fatto del male ai miei figli, anche se sembra che lei stia insinuando questo. Forse non sono la madre migliore del mondo. Quando Mark è morto è stato davvero un sollievo, ma non lo dico alla gente. Non so cos'altro dire. L'investigatore però non molla, non si arrende e le dice, mi ascolti. Conosco il carico mentale che lei ha dovuto portare. Essere una moglie, una madre, colei che gestisce la casa, la persona che guadagna i soldi, ma deve permettermi di aiutarla. Sono qui per cercare di aiutare con tutto questo, perché ho capito, 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 ho capito. Io capito, ho capito, ho capito, ho capito. Io capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ne partiamo. Li fare håulimo ilustersio, per tutti i raggiunti. cover la BЮ, lavare isot no jobs, you've got all this other stuff all these other burdens coming upon you where all of us get to a point where we just say enough is enough and I understand that I understand that but you've got to help me figure out you've got to tell me this stuff you've got to tell me why that way we can get to that point that's the way we can get it out there that this isn't just about somebody that's bad and evil you want people to know that it's that's not what it is it just gets to the point it's just it's just the breaking point all of us every one of us have it you do know that you do know I know I know you're afraid of going to jail but that's that you shouldn't even be thinking about that right now I know but that's how my mind works A questo punto Diane rivela qualcosa di sorprendente risponde per farla breve io sapevo che stavano bevendo dell'antigelo put it really short and sweet I knew they were drinking antifreeze and I was so mad at them I didn't want to take them in in sostanza sta ammettendo che Mark Sean e Sarah sono stati avvelenati tramite l'antigelo un fluido utilizzato principalmente nei sistemi di raffreddamento dei veicoli altamente tossico se ingerito ma in odore e spesso insapore quindi insidioso da riconoscere ho fatto qualche ricerca sugli effetti dell'antigelo per ingestione tramite via orale ed è possibile distinguere diversi stadi di avvelenamento già dopo mezz'ora circa si manifestano sintomi di ubriachezza senza che l'interessato emani odore di alcol si possono verificare sintomi del tratto gastrointestinale quali nausea vomito vertigini e nei bambini diminuzione della glicemia con l'ingestione di dosi elevate si manifestano insufficienza circolatoria coma e crisi convulsive in stato di shock può sopraggiungere la morte nel giro di 12-24 ore la metabolizzazione del glicol etilenico uno dei principali componenti dell'antigelo avviene tra le 3 e le 8 ore successivamente nel giro di 4-24 ore insorgono acidosi metabolica disturbi cardiocircolatori tra cui accelerazioni delle pulsazioni aumento della pressione arteriosa e collasso cardiocircolatorio attacchi di tipo epilettico dapprima accelerazione e poi paralisi della respirazione e disfunzione multiorganica dopo 24-72 ore si manifesta la compromissione renale inoltre il glicol etilenico rallenta il sistema nervoso centrale facendo morire il soggetto che l'ha ingerito molto lentamente i sintomi di questo avvenenamento vengono spesso associati ai sintomi di malattie comuni come l'influenza di conseguenza spesso non vengono neanche eseguiti dei test per rintracciare il veleno nell'organismo in ogni caso Diane sta ammettendo sta dicendo che alcuni membri della sua famiglia stavano bevendo l'antigelo ma che lei non gliel'aveva somministrato bensì li aveva visti mentre lo assumevano tuttavia il detective la guarda e le dice Diane lei sapeva che stavano bevendo l'antigelo perché glielo ha dato lei era al limite vero non aveva altra scelta si sentiva come se non potesse fare nient'altro a questo punto a Diane cade definitivamente la maschera e ammette che sì sentiva che non ci fosse nient'altro da fare aveva ucciso suo marito e suo figlio e aveva cercato di uccidere sua figlia Diane aveva deciso di usare l'antigelo per chi aveva fatto qualche ricerca su google e le era sembrato facile da adoperare ed efficace a compiere le sue intenzioni così aveva iniziato a versarlo nella bevanda Gatorade di suo marito Diane però aveva pianificato di uccidere Mark molto tempo prima rispetto a quando lui è effettivamente venuto a mancare e gli ufficiali lo hanno stabilito grazie ad altre ricerche che Diane aveva fatto in passato sempre su google tra le chiavi di ricerca digitate mesi prima della morte di Mark si legge come avvelenare qualcuno con l'antigelo oppure approfondimenti sul Tylenol che è il paracetamolo e altri farmaci ancora oli essenziali fatali i migliori veleni usati nei suicidi e come fanno i bipolari a uccidersi e io quando ho letto quest'ultima ricerca ho pensato come pensi che si uccidano i bipolari come tutte le altre persone io immagino che desiderano porre fino alla loro vita ma non è finita qui Diane ha avuto la geniale genialissima idea di digitare pure come uccidere qualcuno e farla franca come uccidere il proprio marito e scamparla non ci sono dubbi Diane aveva avvelenato Mark una volta che il velino aveva fatto il suo corso uccidendolo lei aveva aspettato altri 5 minuti prima di chiamare la polizia per assicurarsi che non potesse essere salvato dato che come lei stessa ha dichiarato lo odiavo davvero con tutto il cuore è complicato capire cosa stesse succedendo realmente nella loro relazione le dinamiche interne di una coppia possono apparire diverse all'esterno tuttavia le persone che facevano parte della vita di Mark dicono che era un uomo divertente insomma lo descrivono come l'anima della festa amava sua moglie e i suoi figli trascorreva la maggior parte del tempo a casa con loro si spesso di sera andava fuori a suonare guadagnava qualche soldo tramite i concerti ma tutti i suoi amici sostengono che se Mark non aveva in programma una serata con la band rifiutava qualsiasi invito a bere qualcosa perché la sua priorità era la famiglia ma per Diane era difficile convivere con lui era lei che lavorava duramente per tenere in piedi la famiglia e voleva che le cose in casa fossero fatte in un certo modo sperava che Mark quantomeno seguisse le sue direttive per renderla accontenta ma lui non l'accontentava mai era decisamente troppo pigro per i suoi gusti beh a questo punto mi chiedo questa è una ragione sufficiente per odiare qualcuno forse sì ma anche per odiarlo fino a ucciderlo per quanto riguarda Sean Diane afferma che il primo genito stava diventando un fastidio per lei invadeva i suoi spazi si impicciava degli affari suoi era arrivato al punto da interferire nel suo lavoro quando Sean entrava nella stanza di Diane lei gli chiedeva di rispettare la sua privacy voleva essere lasciata in pace ma lui non l'ascoltava mai vi ricordo però che Sean era autistico quindi faticava a interagire con le persone ma captava le sottigliezze del linguaggio del corpo altrui probabilmente aveva capito che sua madre non lo sopportava ma lui le voleva bene desiderava starle vicino Diane confessa di aver ucciso Sean perché era peggio di una peste così dopo la morte di Mark aveva iniziato a mescolare l'antigelo nella coca cola del figlio la donna afferma che Sean era morto nel giro di pochi giorni ma le prove dimostrano che in realtà c'erano volute settimane intiere per portarlo al decesso e in questo lungo lasso di tempo il povero ragazzo aveva sofferto tantissimo infine Diane parla di Sarah aveva provato a ucciderla per via di tutti quei prestiti studenteschi che dovevano ancora essere saldati e la figlia non stava nemmeno cercando un lavoro così aveva cominciato a somministrarle l'antigelo circa quattro giorni prima che Sarah venisse ricoverata il detective quindi chiede a Diane perché ha portato Sarah in ospedale ma non Sean e Mark se voleva che anche lei morisse Diane risponde che non riusciva a vederla soffrire e ripete più volte che non ce la faceva più dice che a tutte e tre le sue vittime aveva dato solo un paio di cucchiaini di antigero alla volta perché voleva che la loro morte fosse veloce e indolore non che provassero dolore la donna sostiene pure che quando le vittime iniziavano a sentirsi male lei smetteva di somministrare anche quelle piccole dosi perché non sopportava di vederle soffrire ma questa è una bugia Diane dice che si è pentita di quello che ha fatto afferma non sono un'assassina sono solo una stupida mi pento di averlo fatto ho rovinato tutti ho rovinato la mia famiglia prima di procedere con l'arresto di Diane il detective le chiede se qualcun altro sia coinvolto nel crimine e come si senta questo ipotetico complice in merito all'avvelenamento attuato Diane precisa che ha fatto tutto da sola ma l'investigatore le rivolge una domanda inaspettata ovvero Diane lei è certa che Rachel una delle sue figlie non sia coinvolta? la donna nega ha già parlato di Rachel all'inizio dell'interrogatorio il detective ha chiesto a Diane se Rachel sia legata alla sorella Sarah se le due vadano d'accordo Diane ha risposto di sì Rachel e Sarah sono molto legate ma c'è una differenza tra le sue due figlie Rachel non ha mai dato nessun problema alla madre nominando di nuovo Rachel l'investigatore ha palesato i propri sospetti dopodiché arresta Diane che adesso è molto preoccupata per la figlia il detective vuole sondare i sospetti in altri modi la polizia perquisisce la casa degli stauti e trova il diario di Rachel dove la ragazza scriveva tutti i suoi pensieri riportava i suoi sentimenti e le sue confessioni dopo la lettura del diario la 22enne Rachel viene condotta in centrale per l'interrogatorio e la ragazza sa che sua madre ha confessato ed è stata arrestata Rachel appare sconvolta dice che non aveva mai nutrito alcun sospetto nei confronti della mamma quando i suoi familiari si erano sentiti male di certo lei non aveva pensato che fosse stata la madre ad avvelenarli Rachel è scioccata non riesce a credere che una persona a lei così vicina come Diane, sua mamma possa aver commesso il triplice reato in questione tuttavia il detective nota qualcosa che non va nel comportamento di Rachel si sta solo fingendo sconvolta per le rivelazioni su sua madre infatti risulta un po' distaccata quando risponde alle domande non sta prendendo la situazione sul serio di tanto in tanto ridacchia il detective le chiede cosa hai pensato quando tua sorella ha iniziato a stare male? subito dopo la morte di tuo padre e tuo fratello Rachel si porta la mano davanti alla bocca fa un altro risolino ed esclama oddio, non un'altra volta il detective a questo punto recupera le fotocopie delle pagine del suo diario gliene consegna una e le dice ok, ora ti farò delle domande più serie sperando che inizierai a essere onesta con me legge ad alta voce questo passaggio a volte penso che potrei evitare il futuro e continuare a guardare al passato è triste quando metabolizzo che mio padre morirà nei prossimi due mesi così come Sean, mio fratello, poco dopo eppure è davvero utile che io sia logorata così avrò più tempo per prepararmi e farcela inoltre potrò avere l'auto di papà quando lui morirà sarà difficile abituarsi a questi cambiamenti ma tutto andrà bene questo frammento di testo è stato scritto dieci mesi prima che Mark morisse per avvelenamento d'antigelo l'investigatore termina la lettura alza lo sguardo e osserva la giovane negli occhi da prima Rachel cerca di farlo passare per un malinteso afferma che aveva sognato che accadevano delle cose a dir poco terribile alla sua famiglia spiega di aver raccontato a sua madre di questi sogni al che lei le aveva risposto oh è così divertente che tu stia pensando proprio a questo perché vorrei ucciderli tutto ciò mi lascia perplessa ma questo è quanto Rachel dice inizialmente durante il suo primo interrogatorio tuttavia l'investigatore non le crede neanche per un minuto il detective la pressa le ricorda che non è nei suoi interessi mentire alle forze dell'ordine così alla fine Rachel crolla e confessa spiega alla polizia che entrambi gli omicidi erano stati pianificati da lei e sua madre avevano deciso di uccidere prima Mark e dopo un po' di tempo anche Sean avevano effettuato molte ricerche online approfondendo diversi metodi di avvelenamento tramite erbe e piante velenose prima di decidere che l'antigelo era la soluzione giusta avevano la possibilità di comprarlo online dove era acquistabile l'antigelo in sapore scartando quello venduto nei negozi in cui veniva aggiunto un agente amaricante cioè che rendeva il gusto amaro proprio per disincentivare le persone a berlo Diane in cucina teneva una siringa per arrosti e sapeva bene quali bibite gradivano Mark e Sean il primo la Gatorade il secondo la Coca Cola quindi Diane preparava i drink mortali e Rachel gli serviva inizialmente Rachel afferma di aver portato la bevanda avvelenata a suo padre solo una volta ma il detective tira fuori un'altra fotocopia ricavata da una pagina del suo diario Rachel aveva scritto di aver servito a Mark la Gatorade alterata con l'antigelo almeno quattro volte quindi a questo punto Rachel ammette si avete ragione l'ho fatto per tre o quattro volte poi confessa che lei e sua madre in realtà si alternavano avevano avvelenato la Gatorade di Mark ogni giorno mattino e sera anzi sua madre lo faceva anche ogni pomeriggio dunque Mark assumeva l'antigelo tre volte al giorno Rachel rivela pure perché aveva iniziato ad agire così lei aveva sognato di avvelenare il padre e aveva confidato questo sogno a dir poco inquietante alla madre a quel punto avevano cominciato a parlarne seriamente a valutare la possibilità di farlo davvero così con molta naturalezza era arrivato il momento della pianificazione vi dirò di più Rachel ammette che aveva pure fatto delle ricerche da sola oltre che con sua madre ed era arrivata a quella conclusione l'avvelenamento da antigelo sarebbe stata la soluzione più semplice così aveva deciso di comunicarlo a Diane spiegandole che non c'era possibilità di sopravvivenza Rachel racconta ai detective che ogni tanto era lei a rincuorare sua madre Mark, Sean e pure Sarah sarebbero andati in paradiso mentre loro avrebbero potuto rincominciare da capo solo loro due e nessun altro la stessa tragica fine sarebbe infatti toccata anche a Brianna una bambina di 11 anni l'investigatore chiede a Rachel perché lei e sua madre avessero optato per un piano così drastico lo sterminio della propria famiglia un crimine di certo non da tutti Rachel allora dice che suo padre quando era nervoso era difficile da gestire lanciava oggetti in giro per casa manifestava scatti di ira per quanto riguarda Sean lei aveva accettato che sua madre lo volesse morto anche se non credeva fosse necessario ucciderlo a tal proposito Rachel racconta che lei e sua madre litigavano spesso la discussione verteva sempre su questo argomento non era necessario eliminare suo fratello avrebbero potuto lasciarlo in una struttura di residenza assistita quanto al destino di Sarah pare che per Rachel sia un'incognita non ha idea del motivo per cui sua madre volesse assassinare pure lei anzi non sapeva nemmeno che Diane le stava somministrando l'antigelo con l'inganno insomma Rachel dice che non aveva partecipato all'avvelenamento di sua sorella il detective non le crede neanche su questo e insiste nel chiederle perché tua madre ha ucciso Sarah? Rachel dice che l'unica ragione plausibile è che Sarah doveva pagare delle fatture abbastanza salate ma non trovava un lavoro e non contribuiva al bilancio familiare stava semplicemente a poltrire davanti al computer qualora ci fossero stati altri problemi sua madre non glieli aveva mai confidati Rachel però specifica che in realtà lei e Sarah litigavano sempre inoltre la trovava parecchio fastidiosa confessa infatti che Sarah quando andava alle medie entrava nella sua stanza di notte per toccarla ma poi il giorno dopo se Rachel l'affrontava e le chiedeva spiegazioni lei fingeva di non ricordare l'accaduto vi sottolineo che questa è la prima e l'ultima volte in cui Rachel menziona tali episodi non ne farà più cenno negli interrogatori che seguiranno né al processo sempre a proposito di Sarah Diane in un altro interrogatorio futuro dirà che la figlia era una minaccia che aveva messo le mani addosso sia a lei che a Rachel Rachel afferma pure che Sarah era complice nell'avvelenamento di suo padre tuttavia gli agenti non potranno mai interrogarla la ragazza non muore per fortuna ma sopravvive riportando danni fisici e neurologici il dubbio in realtà si basa sull'attendibilità di quello che potrebbe dire a causa del danno cerebrale ecco perché decidono di non interrogarla parlando di Brianna una bambina di 11 anni il suo avvelenamento era solo questione di tempo come detto anche a lei avrebbero fatto bere l'antigelo per ucciderla Rachel era d'accordo con l'omicidio della sorella minore perché si riteneva incapace di prendersi cura di lei era troppo piccola e con una disabilità di apprendimento però io credo che il compito di accudire Brianna sarebbe comunque spettato a Diane la madre che però probabilmente la voleva morta perché la considerava un peso un po' come Sean dopo aver parlato con Rachel e raccolto tutte queste informazioni la polizia vuole risentire Diane per avere conferma della versione della figlia la sua complice sarà stata onesta durante quel lungo interrogatorio? Rachel ha ammesso di essere coinvolta anzi di essere stata la prima a parlare di avvelenamenti con sua madre ma i detective hanno l'impressione che la ragazza si sia piegata alla volontà della figura autoritaria della madre e se fosse stata Diane a imbeccarla? se le avesse raccomandato in caso di problemi di confessare una storia inventata già pianificata? dunque Diane viene interrogata nuovamente l'ufficiale le ricorda che aveva già espresso i suoi sospetti su Rachel aveva intuito che fosse coinvolta ma lei aveva negato invece Rachel aveva confessato tutto quindi era inutile cercare di proteggerla il detective vuole sapere cos'è successo esattamente dall'inizio Diane conferma che tutto è iniziato perché suo marito era, parole sue, uno stronzo usciva tutte le sere, si ubriacava e sperperava i soldi che lei guadagnava spiega che Mark aveva un carattere irrascibile lanciava gli oggetti per casa quando era arrabbiato era fisicamente e verbalmente violento soprattutto nei suoi confronti ma a volte anche con i figli tuttavia Diane prima di ucciderlo non aveva mai raccontato a nessuno che Mark era violento nell'interrogatorio precedente quando era ancora convinta che l'avrebbe fatta franca Diane non aveva descritto il marito come aggressivo semmai lo aveva definito infedele e a dirla tutta nessun altro dice di aver conosciuto questo lato di Mike nessuno sapeva che avesse problemi a gestire la rabbia i componenti della sua band affermano che solitamente non beveva nemmeno inoltre Rachel nel suo diario aveva scritto che il padre avrebbe preferito tagliarsi un braccio piuttosto che fare del male alla sua famiglia sempre grazie al diario di Rachel emerge un altro motivo per cui Diane non si curava più di suo marito odiava l'uomo che Mark era diventato a causa dell'Alzheimer il detective dunque domanda di nuovo a Diane perché avesse ucciso Mark e lei spiega che voleva solo che sparissero tutti così lei e Rachel avrebbero goduto di un po' di pace e tranquillità la famiglia aveva stipulato varie polizze assicurative sulla vita Mark ne aveva una dal valore di 20.000 dollari Sean e Sarah avevano entrambi un'assicurazione dal valore di 15.000 dollari i 20.000 dollari incassati dell'assicurazione di Mark erano già stati usati per comprare una casa più bella per Diane e Rachel Rachel invece affermerà che voleva rimanere sola con sua madre perché lei era l'unica realmente in grado di capirla insomma è chiaro che madre e figlia condividevano uno strano legame tornando a Diane il detective le chiede di nuovo perché avesse deciso di portare Sarah in ospedale se voleva che morisse Diane spiega che né lei né Rachel si auguravano che Sarah morisse in casa speravano venisse a mancare mentre era ricoverata in ospedale infatti Diane aveva addirittura rifiutato il trattamento che i dottori avevano raccomandato per aiutare Sarah il motivo per cui madre e figlia preferivano che Sarah non morisse in casa è bizzarro temevano di rivivere delle esperienze soprannaturali che avevano sperimentato dopo la morte di Sean Rachel lo confermerà in seguito dicendo agli investigatori che le case diventano pericolose dopo che qualcuno ci muore assassinato dentro secondo Rachel era stato molto difficile rimanere in quella casa di notte lei aveva cominciato a dormire nella camera di Sean e questo il detective lo sa grazie a una annotazione presente sul suo diario che vi riporto chiudo gli occhi e cerco di non pensare al suo fantasma cerco di non pensare ai respiri tremanti o alla facilità con cui un'anima evapora senza lasciare nulla se non un guscio vuoto rannicchiato sul pavimento con occhi vacui spenti e le braccia tese Rachel racconta al detective ho fatto molti incubi dopo la morte di Sean mi sono trasferita nella sua stanza ed è stato orribile stare lì dentro continuavo a sentire delle cose e non volevo che accadesse ancora a questo punto sia Diane che Rachel vengono arrestate e accusate di omicidio di primo grado entrambe trattenute in carcere senza possibilità di rilascio su cauzione dopo l'arresto la chiesa che la famiglia Stouty frequentava rilascia la seguente dichiarazione lo staff e i membri della chiesa luterana del Redentore sono rattristati nell'apprendere gli eventi che hanno coinvolto due delle nostre fedeli Diane e Rachel Stouty la morte di altri due membri Mark e Sean e il ferimento di un'altra devota Sara Stouty questo va oltre la nostra comprensione la congregazione e lo staff non hanno nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto riportato dai media preghiamo affinché Dio guidi tutti i soggetti coinvolti e il sistema legale della nostra comunità siamo addolorati ma confidiamo in Dio il nostro messaggio accompagnato dalle grazie di Gesù Cristo in un mondo oscurato dal peccato in vista del processo Rachel accetta un patteggiamento testimonierà contro sua madre si dichiarerà colpevole di due capi di imputazione per omicidio di secondo grado un capo di imputazione per azione criminale e un capo di imputazione per aggressione di primo grado nel 2015 Rachel viene condannata a scontare due pene simultanee di 20 anni per l'accusa di omicidio e altre due condanne simultanee di 20 anni per le accuse aggiuntive viene in sostanza condannata a 42 anni di carcere e potrà beneficiare della libertà vigilata nel 2055 all'età di 64 anni durante la pronuncia della sua sentenza Rachel si scusa con sua sorella Sara sopravvissuta al tentato omicidio dicendo mi dispiace non sono riuscita a trovare il coraggio di difendere ciò che era giusto di chiedere aiuto per proteggere te e nostro fratello la vostra sofferenza avrebbe potuto essere evitata e mi odio per non essere stata lì per te voglio che tu sappia che sei da ispirazione per me poi aggiunge avevo paura ma avere paura non è una giustificazione Rachel però presenta anche una mozione per annullare o quantomeno revisionare la sua pena detentiva afferma che aveva paura degli uomini nello specifico degli avvocati difensori e dei poliziotti che l'avevano intimidita impedendole di ottenere un giusto processo dice quando sono stati nominati gli avvocati la mia paura degli uomini ha portato a una coercizione e costrizione mentale Rachel ritiene che i suoi primi illegali l'avevano incoraggiata a mentire aggiunge che stare nella stanza degli interrogatori da sola con un detective maschio per lei era come essere scorticata viva nella sua mozione Rachel dichiara che non era in una condizione di sanità mentale mentre gli investigatori la interrogavano quindi non era davvero consapevole dei suoi diritti sostiene anche di aver richiesto una valutazione psichiatrica che però non le era stata concessa da quanto letto risulta che questa mozione viene annullata e archiviata nel 2018 Diane invece è pronta a ricevere un'eventuale condanna alla pena di morte per gli omicidi del marito e del figlio e per il tentato omicidio della figlia anche Diane ha accettato un alford plea per ottenere un accordo di patteggiamento nel gennaio 2016 Diane in pratica non ammette la propria colpa Diane afferma di soffrire di un disturbo da stress post traumatico e di non ricordare cosa fosse successo tuttavia riconosce che la polizia possiede abbastanza prove per ottenere un verdetto di colpevolezza prima che il giudice pronunci la sentenza la superstite del caso Sara dichiara perdono mia madre per quello che mi ha fatto non solo mi ha portato via mio padre e mio fratello ma mi ha anche sottratto la possibilità di sostenermi e l'indipendenza tuttavia preferisco essere una sopravvissuta piuttosto che una vittima le perdono per quello che hanno fatto solo perché perdonare è la cosa giusta da fare in questo momento mentre Sara legge la sua dichiarazione sua madre si rifiuta di guardarla a seguito dell'alford plea Diane viene condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale come detto Sara si è salvata ma a seguito dell'avvelenamento non è più la stessa persona ha subito danni fisici, neurologici, ha avuto un ictus e soffre di convulsioni ha dovuto imparare di nuovo a camminare, a parlare correttamente e dovrà essere seguita con un'assistenza costante per il resto della sua vita Sara ha fatto diversi passi avanti nel corso degli anni e oggi sembra stare un po' meglio nel 2020 rilascia un'intervista da cui emergono fatti davvero assurdi Sara racconta all'intervistatore che in realtà sospettava che sua mamma la stesse avvelenando che stesse cercando di ucciderla perché aveva letto un passaggio scritto nel diario della madre riguardava la morte di suo fratello e la sua prossima uccisione così Sara aveva deciso di affrontare Diane le aveva chiesto spiegazioni ma sua madre le aveva risposto di non preoccuparsi lei non sarebbe morta ma le aveva anche raccomandato di non leggere più il suo diario dopo essersi ripresa abbastanza da capire che era stata avvelenata da sua madre e sua sorella Sara dice che avrebbe voluto schiaffeggiarle entrambe e onestamente lo capisco spiega che la parte più difficile da gestire per lei è una, la mancanza della sua famiglia in particolare di suo padre e suo fratello nonostante cerchi di immaginarli accanto a sé Mark e Sean la proteggeranno e cammineranno al suo fianco anche se invisibili per tutta la vita sono i suoi angeli e veglieranno su di lei Sara racconta anche che ogni tanto li sogna loro le fanno visita dall'aldilà da quando si è ripresa la ragazza si è appoggiata alla fede e trascorre molto tempo in chiesa spera ancora di riuscire a diventare una traduttrice di francese vorrebbe andare a Parigi o a Montreal desidera pure creare un gruppo di supporto per le altre vittime di avvelenamento afferma di essere arrabbiata maggiormente con sua madre che con sua sorella ma non considera più nessuna delle due come la sua famiglia le inquadra come delle assassine con cui ha un legame oscuro molte persone competenti hanno cercato di analizzare la forte relazione che c'era tra Rachel e Diane Rachel era sicuramente la figlia preferita somigliava molto alla madre andava spesso in chiesa sapeva cantare era un artista e una poetessa Rachel e Brianna erano le uniche della famiglia che si recavano in parrocchia con piacere Mark ci andava di tanto in tanto mentre Sean si era sempre tenuto lontano da quel luogo perché veniva sopraffatto dall'ansia non sopportava i posti affollati Sara infine preferiva passare altrove il suo tempo libero Diane aveva affermato che Rachel era l'unica figlia che non le aveva causato problemi tuttavia nel 2020 anche Diane rilascia alcune interviste e afferma di non avere un figlio preferito ciò nonostante l'unica figlia che non aveva in programma di uccidere era proprio Rachel e credo che questo sia particolarmente significativo inoltre Diane aveva elogiato sua figlia Rachel pubblicamente su Facebook mentre non dedicava molti post a Sara e a Sean neanche quando il ragazzo era morto la madre aveva scritto qualcosa per lui ma di tanto in tanto pubblicava contenuti su Brianna la più piccola della famiglia quindi alla fine dei conti non è chiaro quale fosse l'accordo voluto da Diane che nel 2022 rilascia un'altra intervista in cui addirittura dice di non avere nulla a che fare con gli avvelenamenti spiega che suo marito era in combutta con gente pericolosa molto pericolosa quindi qualcuno doveva essere entrato in casa loro per avvelenarlo durante la prigionia sempre stando alle parole di Diane aveva appreso che Mark era disposto a morire pur di far vivere in pace la sua famiglia la donna afferma inoltre che all'epoca non aveva idea di come fosse morto il marito lei era tornata a casa e aveva trovato Mark a letto che non respirava tuttavia né lei né i figli erano sorpresi della sua morte perché lui era stato male per un po' prima di peggiorare irreversibilmente dunque l'unica ragione per cui Diane aveva confessato i delitti era perché qualcuno l'aveva imbeccata aveva dovuto seguire certe direttive ma date da chi? Diane non fa il nome di chi l'avrebbe obbligata a confessare degli omicidi che secondo lei non aveva mai commesso si limita a dire ci sono cose che la gente non conosce non posso rivelare di più per motivi di sicurezza eppure in passato Diane aveva ammesso di aver preso questa decisione perché una mattina poco dopo essersi svegliata si era accorta che la sua vita era un vero e proprio disastro tuttavia ora afferma di non ricordare di aver detto questa frase durante l'intervista le viene mostrata una foto di Sara e le prime parole che escono dalla sua bocca sono wow è ingrassata direi che tale commento descrive appieno Diane questa donna è una stronza punto infine afferma di sperare che sua figlia Sara sia felice beh Diane direi che di certo se Sara troverà la felicità non sarà grazie a te quando l'intervistatore le chiede cosa vorrebbe dire a Sara Diane afferma che le dispiace per quello che ha passato sua figlia racconta pure che Sean si sarebbe tolto la vita e che aveva lasciato un biglietto di addio allora come mai la polizia non l'ha mai trovato? semplice non esiste nessun biglietto chiaramente questa donna non vuole assumersi la responsabilità dei suoi crimini ma che cosa ha fatto esattamente? facciamo un ripassino ha ucciso il marito e il figlio ha tentato di far fuori una figlia ha contribuito infine a far incarcerare un'altra figlia quella preferita dell'ipotesi in cui sia stata Diane a manipolare Rachel per renderla sua complice così la piccola Brianna la più giovane ha perso tutta la sua famiglia ed è stata data in affidamento fortunatamente è stata adottata da due persone che le vogliono un gran bene che si prendono cura di lei e di tutti i suoi bisogni mi chiedo a questo punto se il pastore della chiesa frequentata dalla famiglia Stouty non avesse chiamato la polizia ed esposto i propri sospetti Diane e Rachel l'avrebbero fatta franca? magari no immagino spero che le indagini sarebbero partite ugualmente testa comunque dei sospetti che due persone della stessa famiglia muoiano per un malore misterioso e che un altro membro stia lottando tra la vita e la morte inoltre se ricordate anche il personale medico che assisteva a Sara credeva che Diane si comportasse in modo strano il piano della diabolica coppia madre e figlia non era stato ben congegnato non provavano neanche ad apparire intristite per le loro perdite non sembravano in lutto durante il funerale di Mark alcuni partecipanti raccontano che Diane era distaccata più propensa a occuparsi degli ospiti che a vivere il suo dolore da nevedova non piangeva né sembrava sofferente ma la gente credeva che quello fosse il suo modo di gestire il lutto poi però quando era morto pure Sean Diane non si era neanche preoccupata di organizzare un funerale per lui di pubblicare un solo necrologio infatti ho faticato molto a trovare informazioni su Sean durante le mie ricerche Diane si era limitata a invitare un paio di persone a casa per recitare insieme una preghiera e tra loro forse c'era proprio il pastore che poi l'ha denunciata quindi alcuni membri della famiglia nemmeno sapevano della morte di Sean lo hanno scoperto diverse settimane dopo e subito sono stati in pena per Diane pensando se la poveretta non è riuscita neanche a organizzare un funerale deve essere davvero tanto stressata, stanca priva di ogni forza necessaria per occuparsene il procuratore capo assistente della contea di Green Todd Mayers decide di prendere in mano la situazione dedicando un mattone alle due vittime nel Memorial Garden di Springfield più di 100 persone si radunano per assistere alla cerimonia e Todd Mayers afferma che si era sentito in dovere di fare qualcosa perché l'assassina aveva fatto cremare le vittime Todd fa questa dichiarazione lei ha cercato di cancellarli dalla sua vita noi abbiamo scelto di non cancellarli dai nostri ricordi arriviamo alle conclusioni nonostante tutti gli approfondimenti perché questo è un video lungo ancora non mi è del tutto chiaro il vero movente dietro agli omicidi di Mark e Sean Diane non è stata trasparente fin dall'inizio diceva che Mark era un uomo aggressivo che andava sempre fuori a ubriacarsi ma i suoi amici affermavano esattamente il contrario Mark se non aveva impegni legati alla musica passava volentieri il suo tempo a casa con la sua famiglia inoltre i componenti della sua band sostenevano che Mark non beveva mai alcol neanche al termine dei concerti io sono più propensa a credere agli amici di Mark piuttosto che a Diane per ovvi motivi cosa dire poi della versione dei fatti da lei stravolta durante l'intervista del 2022 neanche un'ingenua e lei di certo non lo è poteva pensare che qualcuno avrebbe creduto a questa nuova verità alla sua comoda dichiarazione ho confessato perché mi hanno obbligata ma non posso dire di più per ragioni di sicurezza per non parlare del bigliettino da dio che Sean avrebbe scritto ma che nessuno ha mai trovato mi chiedo cosa sperava di ottenere Diane nello sfornare simili castronerie durante un'intervista dovrà comunque scontare l'ergastolo dietro le sbarre non potrà mai più vedere la luce del sole da donna libera e io tra parentesi dico meno male ma di certo queste affermazioni non le varranno una revisione del processo visto che non possono essere provate mi resta anche un altro dubbio chi è stata la vera ideatrice del piano? onestamente trovo assurda la storia di Rachel può mai aver deciso di uccidere il padre a seguito di un sogno che glielo suggeriva secondo me l'idea l'ha avuta Diane e ha manipolato la figlia per ricevere aiuto quanto la piccola Brianna lei avrebbe potuto aprire il frigolifero e bere le bevande avvelenate senza sapere nulla della contaminazione un grave pericolo sapete immagino non importasse a Rachel e Diane visto che avevano pianificato di uccidere anche lei Diane in definitiva è una donna malvagia e spregevole ha osservato suo marito e suo figlio morire lentamente dolorosamente privati di qualsiasi assistenza medica dalle foto poi ho notato che Rachel all'epoca dei fatti era quanto emaciata e quindi ho pensato non è che aveva paura di bere e mangiare mentre stavano attuando il loro piano malefico? temeva forse che prima o poi sua madre avrebbe ingannato anche lei? sono davvero curiosa di sapere cosa ne pensate di questo caso credete anche voi che Diane fosse la mente dietro al piano oppure ritenete possibile la versione del sogno sostenuta da Rachel? secondo voi cosa scatta nella mente delle persone che insoddisfatte della propria vita non vedono altra via di uscita se non quella di uccidere i propri cari? sono molto curiosa di leggere i vostri commenti quindi per favore scrivete pure qui sotto le vostre idee le vostre opinioni sono molto molto curiosa di conoscerle io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo il prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti